Fermo a causa della pandemia per alcuni anni, il Comune di Fano recupera la fortuna d'oro, il massimo riconoscimento che si attribuisce a quei cittadini che operando in vari campi hanno dato lustro alla città a livello nazionale. Questa mattina il Sindaco Massimo Seri e la Presidente del Consiglio Comunale Carla Cecchetelli insieme ai componenti della Commissione che hanno valutato le candidature hanno reso noto il risultato. Per gli anni 2020-2021 la fortuna d'oro sarà attribuita a Francesco Tonucci e a Carlo Simoni. Francesco Tonucci è il noto pedagogo a cui si deve nel 1991 il lancio del progetto La Città dei Bambini, un progetto che ha reso famosa Fano non solo a livello nazionale ma anche su scala europea, antessignana come stata del rilievo dato ai bambini nell'adeguare il più possibile la città alle loro esigenze tenendo presente che una città a misura di bambino è una città vivibile per tutti. Carlo Simoni è un grande artista che ha unito alla sua passione per il teatro a quella della pittura, due campi in cui ha raggiunto i massimi livelli. Messosi in luce con l'interpretazione nella tv in bianco e nero dei fratelli Karamazov ha poi svolto una carriera che lo ha visto calcare i palcoscenici dei maggiori teatri italiani. Il lavoro di questa commissione è stata nella scelta di due personaggi importanti per la città di Fano che hanno dato lustro non solo per Fano ma anche in buona parte del mondo. Quindi l'appuntamento per tutti i fanesi quando sarà la cerimonia che state organizzando? La cerimonia sarà venerdì 21 aprile alle ore 17.30 presso la Sala Verdi del Teatro della Fortuna quindi invito la città che ha possibilità di partecipare anche per diciamo un segno di gratitudine a queste persone perché hanno portato veramente non solo Fano fuori dalle sue porte ma anche per avere delle persone prestigiose che ecco ci fa molto piacere insomma. Un pensiero va a chi questo premio l'ha istituito qualche decennio fa perché è una città che si rispetti è giusto che abbia un premio riconoscimento come questo. C'è la Milano con l'Ambrogino d'Oro, mi viene in mente la vicina Ancona o tante altre città. È come in una famiglia quando un figlio illustri porta notorietà lo si festeggia e gli si dà un riconoscimento. È una bella occasione, è un bel modo per festeggiare i figli illustri come dicevo di Fano e ovviamente l'invito a essere presenti. Grazie a tutti.